A proposito di sommergibile, c'è qualche evoluzione? Ha avuto qualche altra interlocuzione con la Marina? No, nessuna. Nessuna. Siamo, come dire, su quello che abbiamo detto ieri, siamo convinti della posizione della nostra città che non è contro qualcuno come scrive qualcuno, ma è per. È per un Mediterraneo di pace, Napoli città di pace, capitale del Mediterraneo, contro le armi atomiche. Consentitemelo di dire, è anche una posizione di prevenzione di lungimiranza, prevenzione della salute, un'attività corretta di protezione civile, quindi anche il rischio di incidenti che ci possono stare se si consente a questo tipo di navi di arrivare fin dentro la città. Mi sembra che anche la risposta della Capitaneria di Porto è stata molto corretta e anche tutte le altre interlocuzioni. Quindi la nostra è una posizione forte, determinata, convinta, dal punto di vista politico ed istituzionale. Ci auguriamo che venga rispettata per il futuro dal governo nazionale, non disattesa, perché credo che sia importante che da Napoli possa partire l'idea che tutti i porti del Mediterraneo possano essere denuclearizzati. Noi siamo stati i primi anche in questo e siamo convinti e contenti di aver fatto la cosa giusta, sempre per e mai contro. Sindaco Napoli è storicamente legata agli Stati Uniti d'America, diciamo che può essere definita una sorta di capitale del patto atlantico, teme che questa presa di posizione possa incrinare qualche rapporto. Non c'entra proprio nulla. Noi siamo contro il fatto che qualsiasi nave a propulsione nucleare o che in armi atomiche possa passare o sostare anche in rada nel nostro golfo. Quindi non è contro gli Stati Uniti o a favore di qualcun altro. Penso sia così chiara questa posizione che non può essere messa in dubbio da nessuno. Quindi è una posizione tra l'altro che ho rappresentato subito, appena mi sono reso conto che era accaduto questa cosa e l'ho rappresentata formalmente anche prima che ci fosse l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia con i missili in territorio siriano. Quindi non è una presa di posizione sulle vicende siriane, è una presa di posizione per un Mediterraneo di pace, per un Mediterraneo e un mondo senza armi atomiche e per prevenire, mettere in sicurezza e tutelare il nostro territorio e i nostri abitanti da rischio di incidenti. È una posizione così netta quella di trasformare un pacifismo concreto dalle chiacchiere ai fatti e che lo faccia una città importante. Poi sappiamo perfettamente che ci sono i trattati internazionali, le cooperazioni internazionali, i rapporti tra i governi nazionali, ma noi anche in questo siamo una città autonoma è una città diversa che non rinuncia ai propri diritti, alle proprie esigenze, ai propri sogni, cioè quello di vedere finalmente un Mediterraneo dove non si incrociano portaerei nucleari o missili nei cieli ma che ci possa stare un incontro tra donne e uomini per la pace, per lo scambio culturale, per la fratellanza e la solidarietà. Cerchiamo nel nostro piccolo di fare la nostra parte, non è che pensiamo di cambiare domani il mondo, ma se si comincia dai piccoli passi forse un mondo migliore e più vicino di quello che si può immaginare. Però la Capitaneria di Porto comunque dice che noi non è che abbiamo autorizzato, noi abbiamo dato disposizione. Perciò l'ho detto, la posizione della Capitaneria è corretta. È corretta, e invece quella della Marina? Cioè se lei dice che siamo una città autonoma. È vero che nel momento in cui noi diciamo che siamo un porto denuclearizzato, la nostra posizione come città è ferma, cioè non gradimento per il fatto che si consenta questo. Poi gli altri spetta tradurre concretamente in efficacia la nostra volontà. E quindi noi ci auguriamo che il Governo nazionale e gli altri governi degli altri paesi nel futuro si astengano dal far transitare, sostare anche solo in rada questo tipo di navi. Quindi è chiaro che il nostro auspicio è rivolto innanzitutto al Governo italiano. Questo è evidente e credo che la nostra volontà possa essere rispettata. Vedo che anche la Capitaneria di Porto sottolinea che le nostre preoccupazioni sono condivisibili e comprensibili. Credo che sia nell'interesse di tutti. Non c'è nessuna necessità che questi sommergibili sottomarini o queste portaerei con armi atomiche o a propulsione nucleare stiano nel cuore della città. Cioè qua ci giriamo dove sta facendo questa intervista a poche centinaia di metri o a pochissimi chilometri, quindi tra Napoli, Capri, Ischia e Sorrento. Non c'è nessuna necessità e quindi noi diciamo no a tutto questo. Quindi non è un atteggiamento che stiamo facendo noi guerra a qualcuno. Noi stiamo costruendo ponti di pace. Grazie.